Restano aperti gli interrogativi sull'acqua torbida e sulla complessa gestione degli interventi per la messa in sicurezza del Gran Sasso. La commissione di vigilanza regionale convocata ieri dal presidente Sandro Mariani puntava a fare chiarezza su questi aspetti, ma l'assenza di Marco Corsini, commissario per la sicurezza dei tunnel autostradali, ha impedito di ottenere risposte decisive. Corsini, che avrebbe dovuto illustrare come i lavori autostradali saranno coordinati con quelli sull'acquifero gestiti dall'altro commissario, Pierluigi Caputi, non ha partecipato né ha comunicato le ragioni della sua assenza. Ieri appunto, durante la commissione vigilanza, il commissario Corsini ha deciso di non presentarsi in audizione e di non giustificare la sua assenza, per poi sapere praticamente che avrebbe detto, sembrerebbe che abbia detto, che non si occupa delle questioni riguardanti l'acqua del Gran Sasso. Io sono quasi sconvolto di fronte a queste dichiarazioni, ma avremo modo di sentirlo con le nostre orecchie. Mi dicono che è un commissario sfuggente, che raramente lo si è visto, quindi chiederò a Marsiglio di farsi portavoce da presidente della regione di questa ingresciosa situazione, lo riconvocherò in commissione vigilanza e il fatto che la Ruzzoreti giustamente dica che non ci sono stati problemi non vuol dire che non possano esserci problemi in futuro. Sul fronte dell'intorbinimento dell'acqua, il Sian, Servizio di Igiene degli Alimenti della ASL, ha ribadito la necessità di indagini più approfondite per individuare la causa della contaminazione che ha interrotto i carotaggi programmati. I tecnici suggeriscono l'installazione di potabilizzatori vicino all'acquifero per prevenire carenze idriche, riducendo il rischio di rubinetti a secco per i cittadini. E' proprio questo che dobbiamo vigilare ed è proprio questo che dobbiamo evitare, che ci siano problemi in futuro. Non avere al tavolo uno dei due commissari che devono coordinare e cooperare nella realizzazione, nell'organizzazione dei lavori dell'acquifero del Gran Sasso, la reputo una questione gravissima e ne approfondiremo le motivazioni nei prossimi giorni.